LUCATETTI Viva la batalina in centro della competizione. Mirai sulla sfide di una stanza quadrucata di umanichia, maggiore di un'altra stanza quadrucato, attenzione, arriviamo una battaglia di abbatto. Limposte il Sopra, il centro grado, e vi abbiamo tutti parties. E arrivando anche in Salma Huarca, un'altra battaglia di assenza della vittoria stagionale, a pensione, a troviamo tutti assieme, a troviamo tutti assieme i colloni che stanno eseguando, a piccolo di Marco Balcadine, a piccolo di Marco Balcadine con il loro vicendio di Orpena. La scuola di Marco Balcadine con il loro vicendio di Marco Balcadine con il loro vicendio di Orpena. La scuola di Marco Balcadine con il loro vicendio di Orpena, a piccolo di Marco Balcadine con il loro vicendio di Orpena. La scuola di Marco Balcadine con il loro vicendio di Orpena.